Il romanzo di una gioventù incendiata, l'altro 68. Ecco, io vorrei proprio sottolineare per i nostri ascoltatori, i prossimi lettori del libro che stiamo per raccontare, queste parole, gioventù incendiata, perché fra poco ne capiremo di più di questo altro 68 che in questo romanzo, nella finzione, ma traguardando anche ciò che è stata la realtà, ha molto da raccontarci. Stefano Zecchi, buonasera. Buonasera. E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare il suo nuovo romanzo, le gonne risvolte di copertina che Stefano Zecchi, già professore di estetica all'Università degli Studi di Milano, è romanziere, esaggista, editorialista. Ecco, in questa sua plurale attività e plurale visione del mondo attraverso la parola estetica, che è una parola oggi molto importante, anche spesse volte tirata per la giacchetta. Oggi come oggi, soffermiamoci su questa parola Stefano Zecchi, come sta la parola estetica? Sta in una confusione concettuale non indifferente. Lo è sempre stata, lo è sempre stata, ma forse oggi ancora di più. È sempre stata perché può volere dire cose anche contrastanti. Guardi, se posso fare una breve digressione, un po' anche ironica. Costanzo, la prima volta, sei andato 32 anni fa. Quindi all'inizio di Maurizio Costanzo Show. Sono, guardi, quello che è andato più volte, ho il record. Quest'anno è la prima volta che non sono andato per via del Covid. Non perché lui non facesse la trasmissione, ma io da Milano non avevo la possibilità di andare. Comunque, 32 anni fa, quando venivo presentato come professore di estetica, il mio numero di telefono era la guida telefonica. Ricevevo telefonate dove mi dicevano se potevo intervenire per rassodare seni, depilazioni, queste cose qui. E io dicevo, ma con l'estetica io semmai curo la bellezza dell'anima. Quindi, vede, è una parola che di per sé porta delle ambiguità concettuali da sempre. Adesso ancora di più, perché è un mondo legato fortemente a un mercato delle apparenze. Mentre il discorso sull'estetica, da come lo intendo io, perché poi altri colleghi insegnanti di estetica possono avere un altro tipo di definizione, quindi di interpretazione. Ecco, io in genere cerco di far capire il tipo di conoscenza che si ha facendo esperienza del mondo delle arti. E quindi l'estetica diventa una modalità di comprensione della realtà attraverso le cose che appaiono in modo normale, ordinario, ma soprattutto quelle che hanno una loro creatività, hanno per così dire l'impronta del genio. Ecco, quindi oggi diventa un po' complesso riuscire a dare questa giustificazione del concetto, però io ci tengo che sia questo. E la parola estetica non è una parola che viva al di fuori di questo nuovo romanzo, perché tra poco conosceremo, seppur della brevità di questa conversazione, i protagonisti di questo romanzo Ani ben nascosti, ma uno tra questi, per esempio, Lorenzo, quando conosce Antonello, tormentato esteta, e allora discutono sulla nascita della luna, ed ecco comparire in quel cielo dei nomi straordinari come Junger, Heidegger, Evola, Spengler, ecco, è un romanzo che ci porta anche a traguardare oltre la parola, in un mondo in cui noi oggi abbiamo incontrato Ivano Dionigi, noto latilista, che ci ha detto che oggi non abbiamo pensieri perché non abbiamo parole. Forse, e forse perché non abbiamo questa capacità di parole, no? Non siamo più padroni della nostra lingua, e quindi non possiamo nemmeno più capire che cos'è l'estetica, forse. Sì e no, diciamo, perché uno dei temi che lei adesso ha sottolineato del romanzo, sono tre fondamentalmente, ma uno di questi è un argomento su cui io, in altre sedi, mi sono impegnato per tutta la vita, posso dire ormai, cioè quello della bellezza, il valore simbolico, progettuale, costruttivo, ma è distruttivo, ma è nichilista, ma è reattivo della bellezza. E questo argomento ritorna continuamente nei miei romanzi, che sono qualcosa che penso io, nel mio animo, rappresentano un'altra forma di ricerca rispetto a quella saggistica. Ecco, in questi casi, con le indicazioni che adesso lei ha dato di alcuni grandi del nostro tempo, con i loro libri, le loro ricerche, il tema della bellezza è costante, ma anche è costante perché nel mio romanzo la bellezza ha questa funzione di continua riflessione sul progetto. è quello che, appunto, alla fine può riscattare un mondo di giovani, appunto, incendiati, perché dimenticati fondamentalmente, perché non presenti sulla scena da protagonisti, perché negati come protagonisti. Esistono, ma negati come protagonisti. E quei grandi, torno a dire che lei ha citato, sono figure di una cultura, allora appunto, in quei tempi, parliamo appunto degli anni 70, assolutamente marginata, quella cultura addirittura talvolta derisa e offesa, e che oggi invece è protagonista, protagonista di grandi interpretazioni, di edizioni di grandi editori, che, appunto, invece, ormai cosa sono, 50 anni fa, e più, era una cultura assolutamente messa ai margini, non studiata, rifiutata. Ogni lacrima insegna ai mortali una verità, scriveva Ugo Foscolo. Il dolore è un grande maestro, ci ha insegnato le arti e le scienze, ci ha fatto conoscere l'amicizia, ci ha ispirato l'eroismo, senza farci dimenticare il sentimento della pietà. Il dolore ha messo l'infinito nell'amore. Così comincia, subito, con questa esperienza di dolore, con questa esperienza di dolore, di una lacrima che insegna una verità, che è la verità che attraversa il dolore. Ma qui la parola dolore è unita alla parola sentimento, e poco più in là, in questo libro, lei scrive sentimenti, emozioni, decisioni, non accadono più per caso. Ecco, come mai tutto questo? Ma questo ha una funzione di incipit per descrivere una situazione, che è una situazione drammatica, che coinvolge personaggi più importanti del romanzo. E dall'altra un modo mio, personale, di voler indicare come in tutto il romanzo c'è un filo rosso che è indicato proprio da questa lacrima, nel senso di un dolore, che però ti aiuta a scoprire una verità che è difficile da scoprire, perché appunto è stata rimossa da un potere, potere superiore, a quello dei miei protagonisti, e che quindi diventa rivelatrice di una realtà che sarà quella della storia che poi sono andato lì a raccontare. E la voce narrante di questo romanzo di Stefano Zecchi, Anime Nascosta e pubblicato da Mondadori, si chiama Lorenzo. Lorenzo fa di professione l'antiquario, quindi a proposito di estetica, mobili, oggetti vari, c'è una preziosità, c'è una bellezza che si vede con gli occhi, si tocca con mano, e quindi questa sua devozione alla bellezza è veramente importante. Però Lorenzo ha uno sguardo che, se così vogliamo dire, sempre che abbia inteso bene la lettura del romanzo, è delimitato la sua realtà, è delimitato a quello che è il suo lavoro, e quindi tutto il resto quasi non gli appartiene. Sì, è chiuso dentro alla bellezza del passato, quasi fosse un altro mondo che lui si è costruito, credo di aver detto proprio queste parole nel romanzo, perché Lorenzo ha un percorso molto chiaro che lo porta a questo, i suoi studi di storia dell'arte, poi un apprendistato, diciamo così, iniziale da un antiquario che gli consente di sbarcare il lunario, ma poi lo mette dentro questo mondo affascinante di bellezza del passato che da un lato lo chiude, lo protegge e lo esclude, ed è ciò che patisce poi alla fine il protagonista, Lorenzo, perché patisce quello che in fondo penso io sull'argomento bellezza, la bellezza deve essere vivente, la bellezza non può essere soltanto qualche cosa che ti spinge lo sguardo verso il passato, questa è una grande affermazione che io ho imparato da Goethe, la bellezza è vivente, la bellezza deve trovare sempre uno spazio, aprirsi uno spazio nella contemporaneità, se no rimane chiuso in un passato che non riesce più a esprimere il senso sul presente, e Lorenzo si chiude in questo passato per delle vicende che si potrebbe anche dire giustificano questa chiusura, ma patisce, desidera e patisce questa chiusura, la bellezza da un lato protegge, ma dall'altro spinge all'azione, spinge alla comprensione di un mondo che deve essere vissuto e in cui la bellezza deve diventare protagonista. Deve diventare protagonista la bellezza, la bellezza non deve essere avara, eppure qui, avara, egoista, possiamo conoscere un altro personaggio, Barbara, ecco, anche qui incontriamo una bellezza, ma di un'altra fattezza, un altro ritratto della bellezza, un'altra silhouette. Sì, soprattutto rispetto a quella che era espressa, rappresentata dall'altro personaggio, che forse poi lei evocherà, Gloria, che ci spiega, Barbara, come ci può essere anche una bellezza del silenzio, della correttezza espressiva, e quindi senza enfasi, una bellezza che è trattenuta quasi nel mistero, ed è ciò che affascina Lorenzo, il protagonista, tenendo anche conto che in fondo il mondo di espressione di vita di Barbara è curiosamente diverso da quel tipo di bellezza che esprime il suo corpo e la sua educazione. È un mondo un po' fantasmagorico, quello del musical, della commedia musicale, che apparentemente fa da contrasto tra il carattere della donna e il carattere del lavoro. Ecco, volevo giocare su questa differenza fondamentalmente, che affascina il protagonista. Lo affascina perché in una bellezza segreta coglie il suo stesso mondo e in quella bellezza invece esuberante, anche un po' diciamo pure sfacciata, coglie un mondo che è straneo, ma che continua a essere forse tanto affascinante quanto difficile da afferrare. E uno dei personaggi di questo romanzo è sicuramente anche la città di Venezia, dove Lorenzo incontra Gloria ed è qui un altro personaggio chiave di questa vicenda. Qui un'altra bellezza, la bellezza della musica. E qui Lorenzo ne rimane affascinato, è come non essere affascinato. Ma il problema è che Lorenzo qui non riesce a essere se stesso, ne rimane anche un po', ne rimane anche un po' preso tra tutto quanto in questa storia insieme con Gloria, che poi ritrova Milano, mentre il romanzo continua, vanno a vivere insieme senza rivelare più di tanto. E qui incontriamo un altro momento importante. È il momento del 68, la rivolta studentesca. perché qui a questo punto, con la rivolta studentesca, sembra che ci siano su queste barricate delle certezze, dei valori fondanti. E invece dove sono queste certezze? Dove sono questi valori? Sono nelle speranze, nelle proiezioni verso il futuro di tanti giovani. Erano quelli della mia stessa generazione che con molta disinvoltura pensavano di poter cambiare il mondo. D'altra parte, cambiare il mondo deve essere una speranza di un giovane, perché altrimenti non è giovane, altrimenti si inginocchia di fronte all'esistente e lo accetta vivacchiando. Ecco, quindi cosa incontrano? Incontrano questi miei personaggi un altro 68 rispetto a quello ormai diffuso, descritto, storicamente accertato. Un altro 68 che invece viene rimosso, che invece si pensa non sia addirittura mai esistito. Ed è quel 68 che fonda la sua cultura in quei testi che lei ha citato all'inizio, cioè nei testi di Nietzsche, Heidegger, Jünger, Evola, Guénon, cioè quei testi che erano sempre stati messi al margine da un altro tipo di cultura dominante che era quella marxista-leninista, era quella di una sociologia arrembante, di una psichiatria libertaria. Ecco, questo tipo di cultura che a quei tempi andava, vorrei dire, molto di moda. Si pensi a una figura storica, filosofico storica come Marcuse, era praticamente una specie di guru che dettava le sue leggi, i suoi principi. Ecco, anche Marcuse, per esempio, oggi non se ne parla più, ma è anche bello ritrovarlo in un romanzo come questo, Herbert Marcuse, il famoso l'uomo ha una dimensione, ecco. Certo. Ecco, che ha ancora una sua valenza, no? Questo suo pensiero oppure no, astraendoci per un istante dal suo romanzo, Stefano Zecchi? Lo ha se si riesce a inserire quella forma diciamo espressiva e di ricerca al di fuori di un contesto strettamente storico. Cioè l'uomo ad una dimensione è il titolo del saggio di Marcuse è l'uomo in fondo che ragiona con le teste degli altri. Allora credo che possa avere in questa così rapidissima sintesi perché poi l'uomo ha una dimensione viene spiegato perché e qual è questa dimensione ma se lo si lascia questo titolo in una penombra concettuale vale, vale ancora oggi ma forse vale sempre perché ormai devo dire purtroppo nella mia lunghissima carriera di insegnante se c'è una cosa che io ho capito che è difficilissima della cosa forse più difficile per un giovane e poi per uno non più giovane è quello di ragionare con la propria testa cioè quello di non farsi condizionare dalla dimensione degli altri l'uomo ha una dimensione è quello che non ragiona con la propria testa allora in questo caso può essere come dire un monito che non ha tempo che vale sempre e quindi siamo noi individui che siamo un po' alienati e siamo questo praticamente uomini persone a una sola dimensione quindi non c'è più distacco tra ciò che è e ciò che deve essere in pratica Stefano Zecchi ma vorrei anche proprio come insegnante e come padre di un ragazzo giovane perché sono un papà diversamente giovane che il pensiero diciamo ha una dimensione che la figura l'uomo la donna ha una dimensione sia una figura da superare da oltrepassare da vedere come qualcosa che deve essere messa in disparte perché la ragione deve proseguire su altri versanti ecco questo direi che è un po' un monito che forse si legge anche nel romanzo perché la mia gioventù incendiata è quella che non è stata ascoltata fondamentalmente è stata messa ai margini e non compresa e non capita il desiderio di un paradiso ricreato come dar torto a questi ragazzi che avevano questo sentimento ma in questo romanzo tra finzione e realtà ci porta anche a degli eventi drammatici che conosciamo tutti 12 dicembre 1969 il tempo in cui la lotta diventa veramente violenta e ogni giorno c'era una tragedia ecco quanto io me lo chiedo sovente leggendo i romanzi quando il romanzo attraversa finzione e realtà quanto è la forza Stefano Zecchi la forza di un romanzo come questo anime nascoste a farci capire sì da una parte la storia ma a traguardare anche l'altra storia quella che ha vissuto per esempio in questo in quel tempo l'Italia beh questa è un po' una sfida che una sfida che io non so dovrebbero dire dovrebbe dirmelo lei dovrebbero dirmelo i lettori una sfida se è vinta oppure no gli ultimi romanzi che io ho scritto in genere nei romanzi ci metto quelle cose che mi interessano ma non ho la competenza scientifica per poterla sviluppare in questi casi non ho la competenza scientifica di uno storico e lo storico so come lavora so come lavorano i miei colleghi e quindi io ho studiato ovviamente in certi casi addirittura ho vissuto in prima persona certe situazioni e come negli altri ultimi tre romanzi la storia la grande storia era quella dell'abbandono da parte dell'Italia e degli italiani delle loro terre che erano state poi annesse alla Jugoslavia parlo delle terre dell'Adriatico orientale ecco anche in questo caso c'è una grande storia raccontata da una piccola storia personale da piccole vicende umane una piccola storia che si inserisce in una storia più grande è un come dire un escamotage narrativo e nello stesso tempo di ricerca riflessiva su un determinato periodo quel periodo drammatico e pieno di grandi momenti tragici e di speranza della nostra della nostra storia ecco come lei ha visto questa domanda appunto mi pone la questione ci sono delle situazioni descritte con assoluta coerenza rispetto della storia e i personaggi vengono citati col nome e il cognome generalmente e sono quindi quelli reali e quelli invece che appartengono alla piccola vicenda personale che si inserisce nella grande storia la piccola storia di piccoli protagonisti che sono quelli che compongono la trama narrativa del romanzo si viene accoppati per così poco per come sei vestito per il giornale che tieni in tasca la vita non vale niente la morte è così sciocca e poco più in là vedo un'altra sottolineatura è finito il tempo delle riflessioni dei confronti delle letture per le scelte di campo lo scontro è fisico non è più culturale e qui si parla di lotta armata di terza posizione né con la Russia né con l'URSS né con gli USA si gridava si gridava nei cortei qui non c'è più confronto culturale allora che cosa ci può essere oltre a questo purtroppo c'è stata la tragedia c'è stata la tragedia di di morti di incendi di di devastazioni purtroppo quando il il conflitto non è più anche teso culturalmente e si arriva appunto al superamento come descrivo in queste righe che lei ha letto allora non c'è altro che la lotta lo scontro il superamento del confronto culturale si arriva a quella tragedia che purtroppo abbiamo conosciuto lì le speranze diventano dei deliri e questi deliri talvolta non vengono neppure compresi dai protagonisti che ci si infilano dentro pensando di poter risolvere le questioni con due colpi di pistola così come dice la protagonista del romanzo Gloria e per fortuna posso anche aggiungerlo lei quei quattro colpi non li aveva non li aveva mai sparati non li aveva mai sparati tra l'altro aprendo a caso ho visto una sottolineatura e voglio condividerla con gli ascoltatori prossimi lettori era da tanto che non vedevo citato Angelo Maria Ripellino noto slavista traduttore accademico è stata una figura importante per la cultura Angelo Maria ha scritto un bellissimo saggio su Praga Praga Magica Praga Magica poi anche autore di poesie tra l'altro tutte quante da scoprire Stefano Zecchi autore del romanzo Anime Nascoste pubblicato da Mondadori romanzo di una gioventù incendiata l'altro 68 prima di salutarci invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? cioè quale libro a quale libro sto leggendo sostanzialmente guardi sto leggendo le affinità elettive di Goethe o rileggendo ma a me non mi piace mai dire rileggendo perché c'è una certa superbia in questo modo di dire perché sembra quasi che tu hai già scoperto tutto sì mia mamma era una donna di educazione austriaca viennese quindi Goethe per loro era qualcosa di indispensabile e quindi Goethe l'avevo come dire quasi tra virgolette imparato come si impara qualche cosa che diventa necessario per continuare a comprendere a crescere ecco le affinità elettive ti pongono questo problema se davvero l'incontro con l'altro è un incontro che costruisce attraverso una casualità oppure attraverso cose comuni che si sentono in comune che quindi ti aiutano a crescere cioè se c'è una condivisione nelle relazioni con gli altri oltre ovviamente quelle di tipo legate all'amore all'affetto ma anche allo scambio culturale cioè l'affinità dove nasce l'affinità è qualcosa che cresce che costruisci o qualche cosa che ti è dato senza neppure avere la come dire la coscienza di questo una specie di dato destinale ecco secondo me generalmente si pensa che perché c'è un capitolo molto bello addirittura sulle affinità chimiche che Goethe usa per descrivere le affinità elettive sembra che a mio parere in Goethe ci sia questa specie di abbandono destinale alla relazione c'è una relazione che ti arriva che il destino ti mette tra le mani e tocca a te non fartela scappare ecco in questa perché in questa situazione in cui è così difficile stabilire relazioni d'amicizia per il proprio isolamento quanto è fondamentale riuscire a mantenere quelle che hai e a non perdere quelle che ci possono essere in questo cammino così stentato che noi possiamo fare questo è un po' il forse volevo ancora chiedere questo ma leggendo le affinità elettive di Goethe con questa determinata situazione storico-sociale che racconta e poi il conflitto tra l'istinto il dovere e via di questo passo ma leggendo questo libro c'è un filo rosso che per certi aspetti lo porta anche ad anime nascoste ma sì perché Goethe in fondo è come dicevo sempre una specie di plafond culturale su cui mi appoggio l'ho citato prima quando dicevo della bellezza vivente quindi una bellezza che non può chiudersi al passato essere soltanto una bellezza di osservazione di conservazione sì perché come come accade questo ci sono questi due incontri e prima anche le dicevo sono tre elementi che guidano il libro uno ne abbiamo parlato era quello della bellezza gli altri due sono queste due donne che attraversano la vita di di Lorenzo e sono due occasioni una è la lacrima di cui prima si diceva e l'altra è Venezia con la devastazione che ci fu nel 66 con l'acqua alta cioè l'assoluta casualità che diventa determinante nello sviluppo e nello sfogimento insomma della vita di una persona ma è una casualità che viene come dire in un momento in cui questa casualità può essere compresa cioè come dire è un destino sì che ti accoglie però non che tu accogli è lui che ti accoglie perché è un momento in cui tu sei disposto ad accoglierlo diversamente sei lì che questa cosa bella brutta affascinante negativa ti prende ma tu la lasci scappare via nel caso del mio personaggio le affinità elettive arrivano all'improvviso e Lorenzo le accoglie perché ne aveva bisogno sia dell'una che dell'altra grazie grazie davvero Stefano Zecchi per il tempo che ci ha dedicato partendo dal suo romanzo arrivando fino alle affinità elettive di Ghiote grazie ancora e buona serata grazie arrivederci